Il silenzio delle stelle Attraverso Maria G. Entità L'entità manifestatasi ieri sera è un grande maestro. Volendomi attenere alla gerarchia di questa dimensione e per meglio farvi comprendere, aggiungo che è la dimora appena al di sotto del livello del non più ritorno, livello assegnato agli spiriti dell'ultimo cielo, i venerabili. Non tutti fra noi sanno prospettare fedelmente e rendere chiari i concetti della scala evolutiva né altri concetti talvolta, addirittura diametralmente opposti. E non mi stancherò mai di ribadire la necessità da parte vostra di ben vagliare gli insegnamenti avanti di accettarli. Per farvi un esempio, vi dico che molte entità negano la reincarnazione, poiché ciascuna non può che trasmettervi ciò che è insito nella sua conoscenza, destinata comunque a raffinarsi ed ampliarsi a mano a mano che ella procede nell'evoluzione. Gli insegnamenti quindi sono strettamente dipendenti dal grado di tale evoluzione e dai residui di ideologie umane che inevitabilmente contaminano la mente spirituale, finché non si giunge alla purificazione, cioè alla neutralità assoluta. A questo punto vi domanderete, perché entità ancora ignoranti possano manifestarsi indottrinando erroneamente? Rispondo, perché anche questo ruolo è del tutto arbitrario e facente parte delle varie esperienze a nostra disposizione, soprattutto per indottrinare noi stessi. Quando infatti queste entità si saranno ulteriormente evolute, non si esimeranno dal dovere di correggersi con tutta umiltà e mi riferisco ad errori concettuali commessi in assoluta buona fede e non ai vaneggiamenti mirati degli spiriti poco evoluti. Ritorno ora al maestro di ieri e vi anticipo che, quando ascolterete l'incisione del suo inaspettato intervento tramite la trance di Maria, non dovete spaventarvi della sua voce stentorea, severa, quasi minacciosa, ma dovete tutti meditare su quanto egli dice. Vi consiglio di trascrivere le sue parole con attenzione e massima diligenza, accludendole a queste mie così illimitate. Quando dopo molti mesi di silenzio Aurora si è prodigata per richiamare e riunire il vecchio gruppo, vi siete chiesti il motivo della sua decisione? Pochi si sono posti questa domanda, i più sono intervenuti per semplice curiosità e naturalmente già abbondantemente provvissi di domande su domande, ma di tutt'altra natura. L'entità manifestatasi ha spiegato che la necessità della ripresa del cerchio era dettata dall'avvicinarsi di gravissimi eventi, ma, quando è stata interrogata ansiosamente da uno di voi, vi ha rassicurato riguardo la vostra incolumità e quasi tutti hanno ritrovato il sorriso, un sorriso di sollievo, poiché di qualsiasi calamità si fosse trattato, vi siete sentiti esclusi e corazzati da ogni pericolo. Gli altri, le ipotetiche vittime, cosa contavano? Di cataclismi e di guerre i secoli sono sempre stati pieni, allora perché preoccuparsi? Ego sum. Voi, solo voi, e coloro che amate, che cosa poteva importarvi del crollo, dello sfacelo del resto dell'umanità? Nell'intento di rafforzare il suo vaticinio, l'entità ha lasciato anche un brevissimo scritto. Attenzione al 17 gennaio 1999. Con quale curiosità avete atteso il fatidico giorno? Soprattutto per avere o non una conferma postuma della validità del messaggio? Noi ben sappiamo che alcuni di voi si sono parlati a tale proposito, facendo a gara con le critiche dal momento che nulla era accaduto a quella data. Apparentemente era proprio così, ma soltanto apparentemente badate. Ho il permesso ora di rivelarvi che il 17 gennaio colui che presiede ad una certa nazione nell'occhio dell'immane ciclone, forte del segretissimo beneplacito di un grande alleato, aveva perfezionato i suoi piani strategici programmati per un'esecuzione immediata se l'alleato di qui sopra, condizionato da interessi personali e ben più validi della solidarietà, non avesse bloccato l'intero congegno proprio in extremis. Commento. Spesso si dà una definitiva importanza alle gerarchie spirituali e alle verità prospettate dalle varie entità. Attenzione! Ogni entità vede l'ambiente in cui vive alla luce intensa e meno intensa della sua evoluzione. Altro! Sono le guide che per decenni erogano strutture di pensiero che spiegano l'eterno presente della condizione umana che si estende dal mondo minerale, dalla lava, per esempio, al santo. Queste guide sono i nostri fratelli maggiori che ci hanno preceduto nel cammino evolutivo. Grazie a tutti!